Marvel vs DC prosegue con questa miniserie Marvel vs DC All Access, ovvero Marvel vs DC 2, il sequel diretto del primo Marvel vs DC, che abbiamo affrontato qualche episodio fa. Come era finita? Era finita che i due universi, Marvel e DC, erano stati costretti ad affrontarsi e alla fine non aveva vinto nessuno. In teoria aveva vinto la Marvel, gli incontri erano finiti con la Marvel in vantaggio, ma i due universi si erano fusi, si erano fusi e avevano formato l'universo Amalgam. Chi aveva diviso l'universo Amalgam e aveva ristabilito l'ordine tra i due universi, lo mostro subito, è lui, Axel Asher. Questo ragazzo, questo ragazzo che ufficialmente vive nel mondo Marvel, è fisso lì nel mondo Marvel, ma è una scheggia dentro di sé, possiede letteralmente una scheggia cosmica. È una scheggia, impazzita, appartenuta ai due fratelli, l'universo Marvel e l'universo DC, sono questi due controparti umane, no? Cioè, ci sono questi due giganti spaziali che rappresentano l'universo DC e l'universo Marvel, che erano fratelli, e schegge di questi due universi ogni tanto rimbalzano qua e di là, sono contenuti in oggetti, a volte in persone. Axel Asher è una di queste. Axel Asher aveva scoperto che, appunto, poteva dividere gli universi, quindi aveva nascosto dentro Capitano America e Batman una scheggia dei rispettivi universi, DC e Marvel, e questo aveva permesso, tra l'altro con i loro ricordi, di convincere i fratelli a smetterla di menarsi e di stringersi la mano, di fare pace e di restare divisi. Quindi Marvel e DC erano tornati innanzitutto a dividersi, quindi non c'era più l'universo Amalgam, e soprattutto non dovevano più affrontarsi, i due fratelli avevano fatto pace. Però Axel, col suo nuovo costumino, aveva cominciato a viaggiare lo stesso tra un universo e l'altro, per tenerli separati, perché sapeva che, insomma, prima o poi i due universi sarebbero tornati a unirsi in qualche modo. Basta semplicemente che un personaggio passi, anche per sbaglio, dell'altro universo, le cose potrebbero incasinarsi, quindi il ruolo di Axel è questo. E impedire che Marvel e DC si incontrino di nuovo, ma, lo capirete anche voi, potrà farlo fino a un certo punto. Innanzitutto lo rincontriamo in questo vicolo, come vedete, c'è questo vicolo dove lui sta correndo un po' disperato, c'è uno scatolone, tra l'altro, con scritto i mutanti se ne devono andare a casa, quindi un scatolone scritto di un razzista, c'è anche un barbone e tutto questo gli ricorda, no, la sua prima avventura, perché ricordiamo che il precedente custode dei mondi era un barbone. Axel non è un barbone, ma è sempre stato un po' un girovago, un'anima in pena, e questa cosa, questa sua natura di girovago vi deriva proprio dal fatto che lui sia una scheggia impazzita del mondo Marvel e DC. Girovago com'era, quindi, insomma, a passare in questo vicolo, gli ricorda un po' quella situazione di quando aveva incontrato il barbone e la scatola famosa che custodiva il segreto per tenere disuniti gli universi Marvel e DC. Perché sta correndo Axel? Perché è in ritardo, è in ritardo non per una missione cosmica, ma per un appuntamento. Per un appuntamento con la sua ragazza, che adesso vi mostro. Appuntamento, ecco qua, del buon Axel, con la sua ragazza. Ecco qua. Ovviamente non contenta di vederlo arrivare in ritardo, lui spiega che ha sempre qualcosa da fare, lei non sa nulla ovviamente dei suoi poteri, perché lui non vuole ovviamente metterla in pericolo, ed è difficile spiegare che lui ha il potere cosmico di tenere separati due universi. Già è difficile per chi vive, immagino, nel mondo Marvel accettare che ci sia un universo con tutte quelle stranezze, se figuriamoci molti universi. Vedete tra l'altro Daily Bugle sta leggendo, L'Omo Ragno salva un bambino, insomma siamo nel mondo Marvel. Questa cosa ci fa intuire che siamo nel mondo Marvel. Mentre i due chiacchierano, tra l'altro, mentre lui ci spiega in qualche modo nel dialogo con lei che sono nel ristorante dei genitori di lei, quindi lui mangia un po' scrocco, diciamo che quando devi difendere gli universi dalla loro unione possibile non è facile trovare un lavoro stabile, probabilmente, quindi lui si mangia più a scrocco lì che praticamente con i propri soldi. Mentre i due stanno chiacchierando, tra l'altro si capisce che hanno una relazione un po' traballante, perché appunto lui è sempre in giro, lui deve fare il protettore degli universi, lei non sa niente, quindi lui arriva in ritardo, si dimentica gli appuntamenti, si dimentica le cose, però lei, tutto sommato, sembra essere innamorata, quindi pazienta abbastanza anche con questi suoi comportamenti. Mentre stiamo parlando di questo, però, Axel ha improvvisamente un mal di testa, mal di testa e improvvisamente, ecco, vedete, trema, cade anche la tazzina, lei si spaventa perché sembra andare letteralmente in coma, a un certo punto sviene, comincia a avere delle allucinazioni, e che cosa vede il buon Axel? Axel vede di fatto, lo possiamo tradurre così, mentre esce il titolo della storia, ovvero l'incrocio, vede un riassunto di quello che abbiamo visto nel primo Marvel vs DC. Quindi vede i due fratelli, come li vedete sullo sfondo, e i supereroi che erano stati costretti a menarsi per far sopravvivere uno dei due universi. Quindi lui stesso dice, perché improvvisamente ho questo ricordo? Perché improvvisamente mi arrivano nella testa le immagini di quello che è stato uno scontro tra Marvel e DC? Forse sta succedendo qualcosa, i due universi rischiano di tornare legati, perché infatti, tra i vari ricordi che gli palenano nella mente, c'è anche quando l'universo diventò, anzi, i due universi si unirono, e nacque l'universo Amalgam. Qua vedete l'universo Amalgam, gli diamo Ragno Boy, Artiglio Oscuro, Super Soldato, i vari supereroi che abbiamo già visto nella puntata apposta dedicata all'Amalgam, che tanto potete recuperare, c'è sia nel mio canale Twitch, ma anche su YouTube, se state vedendo questo video su YouTube è differita, e il Dr. Strange Fate, che è quello davanti, quindi l'unione fra il Dr. Fate della DC e il Dr. Strange della Marvel, con in più l'unione anche di Charles Xavier, perché sotto era Xavier, a caso, l'unione di tre personaggi. Il Dr. Strange Fate era l'unico personaggio, se vi ricordate, che voleva che l'universo Amalgam rimanesse unito, quindi che Marvel e DC non esistessero più, ma semplicemente esisteva questo universo unito, l'universo Amalgam. Ed era l'unico Strange Fate a sapere questa cosa, che l'universo Amalgam non doveva esistere, gli altri non si ricordavano che prima erano due persone divise, fuse poi in uno. Però, alla fine, Axel era riuscito a fregare Strange Fate e di fatto riportare tutto alla normalità. A un certo punto, però, quello che vede Axel è Venom. Venom e Superman. E dice, questa cosa non è mai accaduta, però. Neanche nel precedente incontro tra l'University non si erano mai azzuffati. Perché li sto vedendo? Che cosa succede? Sta avendo una sorta di predestinazione. Una predestinazione, infatti, sta vedendo la realtà. Perché, mentre lui ha questi vaneggiamenti, e quindi decide, tra l'altro, di mollare la sua ragazza lì sul più bello, cioè, lui rinviene, lei gli chiede, ma Axel, tutto bene? Lui dice, sì, 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 devo fare una cosa, devo scappare. Lei, ovviamente, non è contenta di lui che se ne va senza dire nulla. E lui scappa. Scappa, e quello che vedeva è la realtà. Perché, infatti, vediamo che Venom, nel frattempo, si è ritrovato, senza sapere come, a Metropolis, un posto che non conosce, in un universo di cui non è mai stato, e vede anche questa statua di Superman che distrugge, e dice, chi è questo Superman? Spiegatemi chi è Superman. E è impazzito, è impazzito, sta cominciando a distruggere tutto, menare a destra manca, e quindi a portare il panico nella città di Metropolis. Tanto che assale anche una povera giornalista che si trovava lì sul sul luogo del Misfatto durante la pausa pranzo, tra l'altro, e viene assalita questo alieno tutto nero che la ghermisce in qualche modo col suo simbionte, come vedete. Quindi, insomma, Venom si lancia subito addosso alle belle ragazze appena arriva nell'universo di Metropolis. Continuando a chiedere chi sia Superman, chi sia Superman, chi sia Superman. Axe, nel frattempo, che aveva avuto questa visione, eccolo qua, scappa in un vicolo dietro il bar dove era con la sua ragazza, tra l'altro, lui era nel Greenwich Village, uscendo si accorge dello studio del Dottor Strange, lo vedete là in alto, c'è questa finestrona con questi simboli strani, anche al cinema l'avrete visto se avete visto il film di Dottor Strange, e davanti all'entrata dello studio c'è Wong vestito di verde, il suo assistente, che guarda stranamente Axel, sembra osservarlo. Lui uscendo vede questa strana finestra, a questo individuo e gli viene in mente qualcosa ma non sa bene cosa, decide di ignorarlo e di proseguire nel vicolo perché vuole andare a capire dove è finito Venom, perché ha avuto questa visione di Venom nell'universo di Superman. Prima di partire, perché lui può viaggiare negli universi, però, eccolo qua, è tempo di trasformarsi, quindi Axel Asher invoca la sua armatura di Axess e diventa Axess l'accesso tra i mondi. Evoca un portale, tra l'altro dietro c'è un poster di Howard il Papero, mi auguro che abbiate visto il film terribile Howard il Destino del Mondo, o la sua apparizione nei Guardiani della Galassia, questo paperotto parlante, un personaggio della Marvel mostro strano, e c'è un suo poster, evoca, insomma, diciamo Axess un portale e si tuffa con nessun testimone, fortunatamente, tranne un gatto che impazzisce, perché vede questo che finisce nei muri. E finisce anche lui ovviamente a Metropolis, quindi segue il suo istinto e va nell'universo di Metropolis a fermare Venom. Buonasera, buonasera, vedo che sta arrivando un po' di gente, buonasera Skinny Doof, benvenuto, benvenuto, non so se sei già un follower, state followando in un sacco, quindi è difficile starvi dietro, nel caso metti follow al canale, e seguimi, perché ho parecchie storie interessanti da raccontarvi, quindi più siete meglio è. Buonasera, anche a Signorina, lei parla troppo, le parla troppo, buonasera, buonasera, benvenuta, miledi, grande fan di questi scontri tra Marvel e DC, non se ne è perso quasi neanche uno, quindi mi raccomando, non perdete neanche gli altri, benvenuta, benvenuta a lei, preparati perché Venom si prepara a sfoggiare un momento di alta moda adesso. Torniamo, torniamo a Venom infatti, che nel frattempo, mentre Axel, ve lo mostro nel frattempo, mentre Axel finisce nel mondo DC, tra l'altro come vedete ha sbagliato un po' a calcolare i, insomma, la posizione esatta in cui deve trasportarsi, quindi arriva e cade, fortunatamente non si spacca nulla, dicevamo, mentre Axel è qui, ve la mostro subito, vede il Daily Planet, quindi il giornale di Metropolis, vede che Superman ha salvato un treno di pendolare, quindi abbiamo il contraltare, no? Spider-Man ha salvato uno, Superman qui salva, salva un treno, sopra di lui sfreccia qualcuno che è proprio Superman, è proprio Superman che salva la ragazza attaccata da Venom, che tra l'altro nel frattempo le ha rubato gli occhiali e se li indossa con una risata veramente terribile, ecco qua, Superman arriva in volo, tra l'altro c'è la ragazza che grida Superman con il logo di Superman, quindi insomma è un po' una una ragazza che ha il marketing nella parola, sopra vedete Venom con gli occhialini e quel sorriso veramente terrificante, però questo è per per chi sostiene che Venom sia sempre serio, no? E odi quando nei film fa le battute, ecco, forse sapete, cioè dovete sapere che anche nei fumetti ogni tanto Venom fa queste stronzate, arriva però Superman, lo prende al volo e lo schianta contro il muro perché dice non so chi sei, vattene dalla mia città subito, altrimenti le prendi e quindi insomma Venom viene abbastanza corcato di botte da Superman, corcato di botte da Superman ma sa difendersi, sa difendersi, quindi riesce anche comunque a fregarlo in qualche modo, gli spruzza addosso un po' di di tela perché ricordiamo che Venom comunque ispira il suo potere a quelli di Spider-Man dato che è il primo che ha posseduto in quanto simbionte, quindi gli copre il volto con la tela creata dal suo simbionte, lo prende anche a pugni riuscendo a fargli anche discretamente male, comunque Venom non è che se la cava male con i con i cazzotti e tra l'altro Superman qua ha un flash, improvvisamente si ricorda dell'uomo ragno che ha già incontrato diverse volte, lo sappiamo che tutte le volte che si incontrano i due universi ogni volta che si separano poi la memoria di due personaggi viene praticamente cancellata, si ricorda dell'uomo ragno, mi ricordi lui il ragnatele, il costume, Venom ovviamente impazzisce, quindi c'è il nome dell'uomo ragno lui va fuori di testa perché lo odia, quindi questo lo rende ancora più forte in quanto ammazzato, incazzato nero con Spider-Man e quindi mena di più Superman e mentre Superman viene allontanato perché viene gettato contro un Pullman lui rapisce la ragazza e scappa Superman vabbè ovviamente non è che sta male anche perché Venom è quel che è lo va subito a inseguire distruggendo con la sua vista calorifica la ragnatela ma viene fermato da Axel che nel frattempo è arrivato sul luogo dice Superman devo parlarti assolutamente devi spiegargli che i due universi devono essere separati quindi Venom non può restare troppo nell'altro universo altrimenti l'amalgamo comunque qualcosa rischia di accadere Superman ovviamente non gliene frega niente dice sì sì vabbè poi parliamo adesso stai lì non ho tempo da perdere devo andare a prendere Venom e quindi non caga il povero Axel e lo lascia lì lo lascia lì ovviamente becca subito Venom su un palazzo perché con la velocità di Superman lo raggiunge in due secondi e Axel Axes ovunque Axel Axel tutte le volte pronunciare il suo nome sarà complicato ogni tanto lo chiamo Axel come il suo vero nome ogni tanto Axes come il suo nome da supereroe arriva con un teletrasporto e salva la ragazza quindi la porta via lasciando Venom da solo come un cretino con Superman e ribadendo ancora una volta Venom tu non puoi stare qua Venom te ne devi andare Venom ovviamente intenzionato a non farlo perché in un mondo dove nessuno lo conosce quindi può fare il doppio dei danni non c'è Spider-Man che per lui è il supereroe più odiato e quello che più volte lo ha fermato non sa che forse Superman è molto più forte però è contento di restare nel mondo DC quindi non vuole andarsene dalla DC Axel però salva la ragazza salva la ragazza tra l'altro la porta in un parco la porta in un parco questa vuole fargli delle domande vuole anche sdebitarsi forse con lui perché fa un po' la provolona lei ci prova un po' ma lui forse un po' ricordandosi della sua ragazza che ha abbandonato nel mondo Marvel e un po' anche perché effettivamente astrizza che i due mondi possono essere uniti la lascia lì tra l'altro dandosi anche le deficienti del tipo questa qua ci stava provando con te tu sei un supereroe potrei approfittarne vabbè insomma Axel ha dei pensieri un po' un po' rivedibili del resto il mondo rischia di esplodere ma lui pensa anche alle belle ragazze è un po' una cosa comune di questi team up tra Marvel e DC che c'è sempre qualcuno che deve provarci prima era Peter Parker ora si è un po' calmato se ne va se ne va tra l'autoposito di Peter Parker ricordatevelo perché tra poco ci tornerà utile comunque se ne va dopo aver salvato la ragazza nel frattempo senza avere più ragazze tra i piedi e quindi civili che possono essere danneggiati Superman e Venom se ne danno di santa ragione Venom Superman ovviamente evita di usare tutta la sua forza altrimenti con un pugno farebbe esplodere Venom Venom questo problema non ce l'ha quindi non ha problemi a dare dei bei dei bei sganassoni in faccia a Superman così a fargli male è stato spaccando anche un po' dei palazzi di Metropolis si non gliene frega niente i due si menano e vengono interrotti proprio da Axis Axis che nel frattempo è ritornato dopo appunto dopo aver salvato la la ragazza e torna ancora una volta per distrarre sempre Venom quindi come vedete lui arriva e Venom lo ricopre di tela questo permette ovviamente a Superman di beccarlo alle spalle ma nessuno dei due davvero né Superman né Venom ha intenzionato ascoltare sto poveraccio che tutto quello che vorrebbe fare è dividerli e risportare Venom nel suo universo tra l'altro quindi aiutando anche Superman nel suo lavoro i due proseguono davvero si menano per un sacco di pagine tra l'altro c'è Venom che continuamente cerca di coprire gli occhi di Superman perché è l'unico modo per fermarlo perché con la forza bruta Superman ovviamente non lo fermi anche se anche se sei Venom ci vuole qualcuno che conosca bene Venom l'abbiamo nominato prima Spider-Man che infatti viene portato nell'universo DC da Axis che è andato a recuperarlo e gli avrà detto guarda c'è Venom che fa casino vieni appena Spider-Man arriva Superman lo riconosce appunto abbiamo detto prima si era ricordato dell'Uomo Ragno di Spider-Man lo riconosce e dice ah si ci rivediamo dopo quella volta in cui ci eravamo tra l'altro già incontrati ma ha un costume diverso dell'ultima volta perché l'ultima volta in cui c'era stato Marvel contro DC se vi ricordate se non ve lo ricordate andate a rivederlo oppure nel video dove l'ho dove l'ho raccontato Spider-Man era Ben Reilly quindi era un clone non era Peter Parker Peter era stato clonato e in quel periodo Spider-Man non era più Peter Parker ma era appunto un clone un clone che poi ha fatto una brutta fine e quindi è tornato Peter Parker come Spider-Man riprendendo il suo costume originale infatti Spider-Man dice guarda è una lunga storia non ero io quello Spider-Man comunque piacere so che lui ti aveva incontrato so dell'incontro tra Marvel e DC perché insomma quando gli universi si incontrano la memoria ritorna e tra l'altro dice anche questo Venom che tu dici che assomiglia un po' a me in effetti in qualche modo è un nemico creato da un mio costume perché ricordiamo che Venom nasce quando Spider-Man si libera del costume nero dal costume alieno che aveva trovato nello spazio e questi va addosso Eddie Brock il giornalista che odiava Peter Parker i due fusi diventano Venom però Peter ovviamente dice è una strada lunga anche quella sia quella del clone che di Venom tu accontentati di sapere che io sono Spider-Man e che lui è un cattivo e va fermato ovviamente ci vuole poco a fermare Venom per i due che tra l'altro dicono ad Access di non seguirli perché potrebbe essere pericoloso quindi lui chiede ma io cosa faccio? loro gli dicono resta qui in questa bellissima tra l'altro splash page doppia fatta apposta solo così per flexare un po' il disegnatore di turno e mostrare i personaggi di Superman e Spider-Man nella loro gloria gloria anni 90 infatti vediamo che Superman ha ancora i capelloni tipici di quegli anni di metà anni 90 e beh loro dicono Access resta qua perché per te è pericoloso lui ci dà ascolto ai due ovviamente no è Access lo sappiamo quindi anche mentre questi si menano lui continua a teletrasportarsi e a fargli la morale insomma digli guardate che io ho portato qua Spider-Man per evitare che Venom avesse la meglio ma dobbiamo portarlo via dobbiamo sbrigarci perché altrimenti i due universi finiscono con l'unirsi di nuovo Superman stavolta gli dà ascolto ha capito insomma che può fidarsi di lui che non è un pazzo vestito da scemo e quindi dice ok ho capito sconfiggiamo in fretta Venom e lo riportiamo poi nell'universo natale nel frattempo come vedete Spider-Man se le sta dando con Venom Venom che devo dire dà le piste a tutti qua perché come vedete solleva sia Spider-Man che Superman quindi abbiamo un simbionte particolarmente incazzato non viene dato una motivazione non so se perché forse è passato nel universo della DC quindi ha ottenuto un qualche tipo di forza maggiorata o comunque le ha presi alla sprovvista non lo so tra l'altro sta per mordere Spider-Man e Venom e Superman fa da da scudo perché tanto vabbè il morso di Venom non gli fa niente però nella loro precedente chiacchierata ovviamente questo momento qui Superman ha dato il suo mantello ad Axes e gli ha detto guarda vai nel laboratorio Star di Metropolis fagli vedere che hai un mio mantello così si fideranno di te perché ti ho mandato io loro sanno che questo è il mio mantello possono fare dell'analisi per vedere che è davvero il mantello di Superman e ti daranno un oggetto necessario a sconfiggere Venom perché nel frattempo Spider-Man gli ha detto il modo migliore per sconfiggere Venom è usare delle onde soniche allora Axes obbedisce obbedisce e infatti mentre i due stanno tenendo a bada Venom ricompare armato di cannone sonico un cannone sonico che ha preso nei laboratori super tecnologici della Star di Metropolis e colpisce con un onda sonica infatti vediamo che Venom urla come un pazzo e il simbionte gli lascia il suo corpo quindi vediamo rimane solo un Eddie Brock nudo e dolorante perché le onde soniche fanno vibrare parecchio il costume fanno impazzire il simbionte quindi perde il suo collegamento mentale con la vittima e di fatto è come se si sciogliesse quindi rimane solo il malcapitato di turno completamente nudo quindi vediamo il povero Eddie per terra denudato completamente Venom quindi si può dire sconfitto e Axel dice ok adesso bisogna tornare subito nel nel nostro mondo dice a Spider-Man assieme a Venom prima che le cose possano finire male infatti qua vediamo che i due legano il povero Eddie Brock scompaiono in un portale e c'è Superman così in posa da fighetto che guarda l'orizzonte e dice chissà se mai ci rivedremo chissà se mai ci rivedremo lo scopriremo nel frattempo assieme appunto a Venom Spider-Man e Axel sono tornati nell'universo Marvel sono tornati nell'universo Marvel e insomma si stringono la mano dicono ok abbiamo collaborato bravo bene Bis e tra l'altro Spider-Man nomina il Dottor Strange dice ah siamo finiti nel Greenwich Village un posto molto strano anche se noi di cose strane ne abbiamo già viste qua c'è un mio amico si chiama il Dottor Strange bla 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 quando Spider-Man dice questa cosa Axel si ricorda del fatto che aveva visto la finestra di Dottor Strange e di Wong che ora Wong non è più lì vede solo il palazzo di Strange dice c'è qualcosa che non mi sconfinfera in effetti mi aveva dato una strana sensazione quel posto lui dice ora che lo nomini Spider-Man però però vabbè le cose sembrano andate in maniera cioè sembrano andate ok quindi non c'è nessun problema forse ho una sensazione mia sbagliata Spider-Man se ne va con Venom catturato e Axel passeggia da solo ovviamente perché la sua ragazza nel frattempo se n'è andata lui l'ha abbandonata lì e dice ok è una strana sensazione ma per fortuna è finito tutto è finito tutto per chi non è finita in realtà è proprio per il Dottor Strange che nel frattempo nel suo palazzo dice inizia quindi ha anche lui una sorta di di presagio che le cose potrebbero non andare proprio bene però per adesso Axel ha finito la sua prima missione da sistematore di mondi non ci viene mostrato ovviamente che disunisce i mondi delle scorse puntate quindi Silver Surfer Superman Davy LeBatman eccetera quello dobbiamo accettarlo che succede tutte le volte non ci viene mostrato perché si preoccupano di raccontarci solo le storie principali però succede però Dottor Strange ha uno strano presentimento capiremo capiremo qual è ovviamente non finisce qui Axel appunto ha finito la sua prima missione e decide di chiedere scusa alla sua ragazza offrendole così un appuntamento eccolo qua nella seconda parte che si titola le due facce della stessa medaglia vediamo Daredevil che nel frattempo volteggia sopra New York ma non interagisce con Axel semplicemente sta volteggiando per fare la sua ronda diciamo di protezione della città e qui insomma immaginate che vivere a New York nel mondo Marvel funzioni così c'è ogni tanto ti vedi supereroi che ti volteggiano sopra la testa la ragazza di Axel è abbastanza tranquilla diciamo che lo ha perdonato per quello che ha fatto poi insomma la gitarella con il carretto nel parco di New York è sempre una cosa che fa piacere diciamo quindi si trova a perdonarlo nonostante sia svenuto sia rinvenuto e poi abbia blatterato delle cose sia scappato lui ovviamente non ha spiegato non sa niente di quello che è successo lui ha detto solo che doveva pulire doveva fare una specie di lavoro di pulizia le cose secondo voi durano la pace dura abbastanza ovviamente no perché appena in cielo partono dei petardi sono quelli che sembrano fuochi d'artificio ma non lo sono adesso capiremo che cosa sono i due sembrano tranquillizzarsi e stanno per baciarsi come vedete quindi insomma momento idilliaco per il povero Axel e la sua ragazza chi li ferma signore e signori colei che ha dato inizio ai fuochi d'artificio che abbiamo visto Jubilation Lee alias Jubilee una X-Man con poteri pirotecnici quindi il potere di creare letteralmente dei fuochi d'artificio e che abbiamo già visto nel primo incontro tra Marvel e DC Jubilee si era scontrata con Robin e anzi tra i due era anche nato un amore tra lei e Robin e lei aveva tenuto un diario qua scopriamo che lei ha perso la memoria come tutti ma nel suo diario aveva scritto cercare Axel anzi cercare Axes perché lui potrà farmi tornare da Robin quindi lei non aveva più la memoria ma avendo tenuto un diario poteva sapere dell'incontro dei due universi e evidentemente finita lì a Central Park ha visto Axes per caso un classico esempio di Deus Ex Machina lei ha visto Axel gli è venuta in mente tutta la situazione ha ripreso i ricordi lo ha avvicinato subito gli ha detto tu mi servi infatti si avvicina dice oddio non ci incontriamo da tanto mi servi mi servi mi servi questo fa ingelosire ovviamente la ragazza perché Axel non spiega chi è Jubilee e dice dai ma è una bambina quindi quando sei scappato via era per incontrare lei momento di gelosia dice preferisco stare col cavallo e se ne va lasciando i due a piedi Jubilee dice scusa in effetti sono arrivata un po' così no perché lo abbraccia no sembrava davvero una innamorata quando si è avvicinata a Axel e gli dice ok va bene metterò una buona parola con la tua ragazza però tu devi farmi un piacere devi riportarmi nel mondo della DC lei non dice della DC però insomma nell'altro universo perché io voglio rincontrare Robin il mio grande amore lui dice senti non è che io sono uno che appunto cioè una porta girevole mi chiamo Axel ti porto da una parte all'altra dei mondi però cioè non usarmi come un ascensore come un lei però lo convince perché dice dai dai solo due minuti non faremo niente di male voglio solo salutare Robin voglio salutare Robin voglio salutare Robin ti prego portami lui convinto anche dal fatto che lei metterà una buona parola sulla relazione quindi con la ragazza accetta si ritrasforma in Axel quindi via ancora col customino con le spalliere molto anni 90 e dice va bene ti porterò nel mondo nell'altro mondo quindi la porta nel mondo della DC per salutare Robin una scelta che non avrei fatto anche perché porterà solo altri casini ovviamente arriviamo a Gotham City quindi torniamo nel mondo DC in una bellissima splash page con questa pioggia che bagna Gotham City con tra l'altro il segnale il bat segnale nel cielo e c'è Robin un po' un po' sognante che fa il ragazzo emo e guarda così la pioggia di Gotham City che gli bagna il volto vede però a un certo punto una luce fortissima e che gli compare davanti una di cui anche lui praticamente si era dimenticato ma appena la vede scatta il ricordo giubili lei grida a Robin i due si abbracciano oddio mi sei mancata oddio mi sei mancato non abbiamo neanche avuto tempo di salutarci chissà se gli universi fossero stati per sempre uniti come all'epoca cosa sarebbe potuto succedere insomma momento piccioncini momento piccioncini fra l'altro dove il povero Axel si trova a fare il candelotto ma portare la candela tanto che viene allontanato come vedete gli dicono no puoi lasciarci un po' di tempo da soli e il povero Axel deve andarsene così in giro sotto la pioggia per far sì che i due piccioncini parino tra di loro purtroppo per giubili Robin nel frattempo si è fidanzato insomma ha trovato un'altra ragazza una certa Ari i fan della DC sanno che in realtà sarà solo un amore di passaggio come i tanti che i Robin sono abituati ad avere però in quel momento c'era e quindi giubili si ritrova a essere insomma da sola con il suo grande amore dell'altro universo che ovviamente si è rifatto una vita nel frattempo perché è passato diverso tempo dallo scontro tra i due universi proprio mentre diciamo lui gli sta spiegando questa cosa però e lei sta dicendo ah come sei fidanzata arriva una nostra conoscenza qualcuno che prima come vedete stordisce Axess alle spalle che sviene testa nella pozzanghera splash e con in mano un revolver tra l'altro però non gli spara lo stordisce e basta mentre Axess è tratto parlare diceva vabbè dai sto migliorando sto usando i miei poteri questi due adesso si parlano poi la riporto indietro non dovrei fare danni appena detto sviene sviene e chi è questo tizio qualcuno che si avvicina a Robin e Jubilee stringe qualcosa in una mano un fulmine tra l'altro illumina la scena che per adesso è un po' in ombra quindi vediamo solo metà di questo personaggio e come suggeriva il titolo della storia ovviamente questo personaggio illuminato dal fulmine è proprio due facce due facce con questo bellissimo vestito molto ispirato a quello del film Batman Forever quindi molto molto colorato con queste zebrature sulla giacca e sulla 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 cravatta c'è due facce due facce che odia morte Robin in questo periodo soprattutto odia Batman ma soprattutto Robin perché vede questo ragazzino impertinente che non sembra degno per affrontare un killer spietato un criminale che che governa famiglie mafiose come due facce quindi in questo periodo odia terribilmente Robin e lo stava cercando in questa notte per ucciderlo per ucciderlo ha fatto il suo tiro di moneta classico l'abbiamo visto anche nella scorsa scorsa settimana con il crossover Devil e Batman dato che c'era c'era due facce la moneta ha detto che Robin andava ucciso quindi due facce guidato dalla moneta questa notte vuole farlo fuori e non conosce ovviamente Giubilee se la trova davanti ma non sa chi sia tanto che lei riesce a far allontanare i due usando i suoi poteri pirotecnici pam petardi in faccia due facce due facce si allontana e i due fuggono i due fuggono lei dice ma io sono un X-man ho affrontato anche della gente con superpoteri cioè ma non possiamo dargli due cartoni sul muso anzi sui musi visto che ha due facce Robin però dice no no due facce è pericoloso due facce anche se non ha superpoteri è cattivo è uno psicopatico quindi è molto pericoloso tanto mentre lui con due facce spara vedete quei tre colpi poc 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 sul muro Giubilee gli crede ora con i poteri che ha Giubilee per quanto non sia non abbia la superforza secondo me potevano sbarazzarsene abbastanza facilmente però Robin forse si è sentito un po' sottotono rispetto a lei quindi vuole far vedere che un po' lui conosce i nemici e la città dove sono quindi la convince comincia a scappare ma comincia a scappare e due facce gli insegue gli insegue incazzato i due si lanciano tra l'altro da un palazzo questa cosa fa salire tra l'altro l'eccitazione di Giubilee che si vede lanciata da un palazzo l'adrenalina sale imbracciata Robin quindi insomma inizia a non capirci più niente c'è anche un momento un po' smielato fra i due quando atterrano sul tetto di fronte anche se lui appunto ha accennato alla sua la sua nuova ragazza infatti lei dice so che tu hai una ragazza però insomma io quello che provo è questo quindi momento un po' così e dice come facciamo a sconfiggere due facce che nel frattempo li stai inseguendo Robin dice ti ricordi quando ci siamo affrontati perché vi ricordo che i due Robin e Giubilee erano due contendenti nel duello che abbiamo visto nel primo incontro tra Marvel e DC ti ricordi come ti ho sconfitta se vi ricordate lui aveva usato il suo mantello lanciandolo lei credeva nel buio di quel di quel specie di magazzino dove si erano affrontati vedendo il mantello svolazzare lei aveva pensato fosse Robin lo aveva colpito ma Robin in realtà era sopra di lei e l'ha stordita quindi insomma l'aveva fregata facendogli credere di essere dove non era i due replicano questa cosa in una maniera un po' più complessa due facce arriva vedete si arrampica sotto la pioggia sulla scalinata del palazzo dove sono vede una silhouette con il mantello di Robin e dice ok sei Robin tira di nuovo la moneta due facce vuole essere molto sicuro di seguire i consigli della moneta e la moneta come vedete gli atterra sulla mano dal lato segnato dalla X quindi Robin va ucciso nel frattempo Axis si risveglia dopo aver bevuto un po' di pozzanghera ovviamente quella che ha visto due facce non era Robin anzi già un po' si vede se vedete la silhouette ma era la affronta cioè lui la assalta era Jubilee infatti quando lui si avvicina luce del riflettore Jubilee e questo lo distrae abbastanza per far sì che Robin arrivi da dietro eccolo qua lei fa partire dei petardi lui viene accecato Robin la colpisce da dietro ora io non so se fosse necessario fare questa cosa perché se ci pensate bastava che i due si dividessero lei lo accecava come ha fatto all'inizio tra l'altro e lui poteva colpirlo vabbè hanno voluto replicare questa cosa secondo me assolutamente non necessaria però l'hanno fatto l'hanno fatto due facce cade all'indietro tra l'altro e sviene perché viene elettrificato perché dietro c'è questa specie di generatore che fa funzionare la luce a forma di trattato di questa moneta gigante e Axis arriva sul luogo dopo che si è ripreso proprio nel momento in cui i due come vedete hanno sconfitto due facce quindi il poveraccio rimane lì nell'acqua trattato rischiando anche di morire fulminato e i due sono vittoriosi sono vittoriosi Axis è incazzato nero ovviamente dice lo sapevo non dovevo accettare di portare Jubilee in questo universo dice sentite salutatevi muovetevi e andiamocene ma mentre i due stanno parlando qualcun altro del mondo Marvel oltre Jubilee non portato lì però da Axis è arrivato un bel colpo di coda verde e sì signori e signori lo scorpione lo scorpione incazzato nero non sa tra l'altro neanche lui dove si trova ma attacca il gruppo quindi Jubilee Axis e Robin e come dice la fine della seconda parte questa era la seconda parte della storia e ora Batman e il Dottor Strange quindi il cast si arricchisce effettivamente è così adesso li vedremo li vedremo lo scorpione in realtà ha vita breve perché mentre come vedete sta per colpire di nuovo uno del del gruppo vede un'ombra alle sue spalle e tra l'altro la coda gli viene colpita da un Batarang quindi sappiamo che se arriva un Batarang deve arrivare per forza Batman e infatti eccolo qua Batman con tra l'altro il titolo della terza parte nello studio del Dottore immaginiamo tutti che Dottore sia Batman arriva tra l'altro col suo bel simbolone giallo quindi questo look anni 90 che però ricorda il look classico e stordisce lo scorpione stordisce lo scorpione e ci vuole davvero poco per per studiare lo scorpione per Batman nonostante tutte le imprecazioni che questo gli tira contro quindi insomma è più un cameo quello dello scorpione che è un vero duello lo scorpione prova a sparare tra l'altro un po' di acido dalla sua coda per cercare di sciogliere il mantello di Batman ma Batman si para con quello che sembra un mantello antiacido e tira il suo Batarang colpendo in faccia lo scorpione e poi raggiungendolo con un pugno e facendolo svenire quindi caro scorpione buonanotte preparati a tornare nel mondo Marvel cosa che succede infatti subito Access decide di riportarlo a casa tanto senza nemmeno andare con lui riesce col solo tocco a rispedirlo a casa quindi i poteri di Access diventano sempre più potenti sempre più precisi bravo Access i due si salutano Robin e Jubilee tra l'altro chiedendo a Batman e a Access di andarsene di nuovo quindi ancora una volta Access dice ah già volete stare un po' da sole piccioncini quindi i due se ne vanno guardate la faccia di Batman nell'ultima vignetta tipo ok Batman ormai con i sentimenti non ha più niente a che fare i due si salutano tra l'altro si danno anche un bacio ve lo faccio vedere eccoli qua momento d'affetto con anche tra l'altro il vento che trasporta un foglio di un'opera teatrale di uno spettacolo Romeo e Giulietta quindi un momento proprio super tenerone fra i due che limonano sotto la pioggia di Gotham City lei un po' sottona in realtà dice lo so che tu sei fidanzato glielo ribadisce però chissà cosa sarebbe successo se non fossimo stati in due universi diversi lui dice eh già si si è vero vero boh se ne va tanto pensa anche e ora chi glielo dice alla mia ragazza che mi sono limonato una di un altro universo quindi insomma un po' più terra terra Robin meno romantico di Jubilee Batman nel frattempo vuole andarsene dice senti non me ne frega niente riporta questi qua sul loro universo riporta lo scorpione in galera ma io non voglio saperne niente anche perché io non sono fatto per le cose cosmiche dovresti chiedere a Superman o a Lanterna Verde insomma lui dice in effetti hai ragione Batman però io ho bisogno di un detective ho bisogno di qualcuno che sia bravo a indagare Batman è chiamato il detective più grande del mondo in effetti si può dire che lo sia quindi accetta dice va bene verrò con te nell'universo Marvel a capire cosa sta succedendo viene portato nell'universo Marvel tra l'altro Axis porta lo scorpione in galera e Jubilee dagli X-Men quindi la riporta a casa quindi lascia un Batman per un attimo da solo abbastanza tra l'altro per poter vedere la gatta nera come vedete su un tetto e scambiarla tra l'altro per Catwoman dice Catwoman qua Selina Kyle ah no non è lei ma chi è che sei sembra che voglia andare a farci conoscenze in qualche modo ma viene interrotto da Axis che come vedete torna dopo aver riportato Jubilee dagli X-Men e dice ok ora sono pronto dobbiamo fare quello che è necessario per capire cosa sta accadendo e gli fa un riassunto perché Batman dice senti per favore ma io ti ho seguito mi hai convinto a fare sta roba tra universi ma io poi un attimo rispiegare cos'era successo e Axis lo fa spiega da Batman dei due scontri e spiega anche il fatto che poi i due universi si erano uniti nell'universo Amalgam e del Dr. Strange Fate come vi ho già detto prima cioè di questa entità che si ricordava degli universi precedenti sapeva che l'universo Amalgam non doveva esistere e faceva di tutto per tenerlo unito e ovviamente Axis gli ricorda guarda che io avevo messo le due chiavi diciamo dei due universi Marvel e DC quindi per farle le due chiavi che rappresentavano la salvezza per i due universi per farli dividere una dentro di te e una dentro Capitano America e Batman comincia a ricordare dice ok ok adesso sto cominciando a ricordare quello che era successo qui Axis ha un'illuminazione si ricorda che quando era stato rapito l'avevamo visto nello speciale Amalgam nella puntata speciale sull'Amalgam era stato rapito dal Dr. Strange Fate si ricorda di quella finestra la vedete là in basso riflessa diciamo nel pavimento quindi questo sì questi quattro simboli che si incrociano formando una specie di croce simbolo del Sancta Santorno del Dr. Strange e si ricorda che è la stessa finestra che ha visto dietro il vicolo all'inizio della storia che stiamo raccontando adesso con Wong appunto davanti quindi dice allora il Dr. Strange di cui parlava Spider-Man che si trova nel Greenwich Village può avere a che fare con il Dr. Strange Fate quindi forse inconsciamente il Dr. Strange Fate esiste ancora in qualche modo magari dentro il Dr. Strange e sta facendo fare queste bizzerrie agli universi quindi sta buttando Venom da una parte Scorpione dall'altra sta cercando di far sì che gli universi collassino di nuovo e ritorni l'universo Amalgam andiamo dal Dr. Strange andiamo dal Dr. Strange e Batman dice va bene io mi fido non lo conosco di fatto perché Batman non è un esperto del mondo Marvel e come decide Batman allora di entrare nello studio del Dr. Strange ora ve lo mostro così spaccando il vetro un bel scratch con tra l'altro il Dr. Strange che guarda in alto e dice che cazzo sta succedendo perché un tizio vestito da pipistrello mi ha sfondato al lucernario e comincia un momento di zuffa un momento in cui i due sembrano darsele comunque Dr. Strange cerca di difendersi illuminandole le mani preparando degli incantesimi di attacco però viene fermato da Axis Axis che dice no no fermi fermi non dovete menarvi prima ti spiego la situazione perché dobbiamo capire cosa sta accadendo racconta per l'ennesima volta tutta la storia degli universi e dell'universo Amalgam e del Dr. Strange e dice non è che tu in qualche modo sei posseduto dal Dr. Strange fate e non te lo ricordi lui dice guarda io sono a posto l'occhio di Agamotto cioè il suo medaglione magico non mi ha detto che c'è qualcosa di strano quindi non non credo che stia per succedere qualcosa di di bizzarro perché lui non mi ha avvisato di solito lo fa quindi non me la sento di dire che che ci sia qualcosa che non va Batman dice dovremmo controllarti la testa farti una specie di check up entrarti nella mente in qualche modo in realtà Dr. Strange è abbastanza convinto di questa cosa dice ok mi fido di voi insomma fatemi le analisi che dovete farmi io vi assicuro che Dr. Strange non so nemmeno chi sia manco sapevo dell'amalgam degli universi amalgamati quindi non datemi colpe che non ho mentre sta dicendo questa cosa il colpo di luce non c'è Tensink che sta facendo il colpo del sole no ma qualcuno si è appena teletrasportato lì ovvero e qua finisce tra l'altro la terza parte bababam gli X-Men quindi la nostra Jubilee tornata a Westchester nella scuola degli X-Men così ha deciso di aiutare Axel e di venire a vedere cosa sta succedendo Jean Grey tra l'altro con il suo potere mentale ha sentito che c'era qualcosa che non andava lei può leggere nella mente delle persone e la prima cosa che infatti fanno una volta arrivati è fare il quarto grado a Batman gli dicono Batman chi sei da dove vieni perché stai cercando di rapire Xavier cioè comunque di Xavier Strange perché comunque Batman vuole portarlo con sé per fargli delle analisi guarda che Strange è un potente mago è un protettore ha più volte protetto l'universo in cui ci troviamo quindi non può essere cattivo Strange tra l'altro dice sì ve lo sto ripetendo da un sacco che io non sono cattivo però Batman dice io mi fido di Axis se Axis dice che qualcosa non va allora vuol dire che forse ha ragione che dobbiamo in qualche modo capire se sto dottor Strange fate c'è ancora Jean Grey però invece che darsi anche lei subito alle botte come farebbero i supereroi dice va bene fidiamoci di Axis tocca la testa di Strange e gli entra nella mente lei può farlo appunto nella sua mente però non trova nulla trova la storia delle sue origini no lui era un medico si ha rotto le mani poi non poteva più operare allora è andato a cercare una cura in Tibet ha incontrato l'antico gli ha insegnato la magia ha capito che non doveva essere arrogante insomma tutta la storia di dottor Strange ma del dottor Strange fate nessuna traccia infatti c'è anche Axel nell'ultima vignetta che si gratta la testa e dice io ragazzi sento che qualcosa non va sento che qualcosa non va ciclope un pochino si rompe anche le palle di avere questo qua che dice no 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 dobbiamo dobbiamo indagare gli dice senti non c'è niente che non va trovo un'altra soluzione ma questa non è dentro Strange smettila Batman lui dice no io credo in quello che dice Axel e viene minacciato dal fiere viene minacciato dal fiere che gli dice guarda che ti spezzo le corna da pipistrello se ne lo smetti di insistere Batman ovviamente non se lo fa ripetere due volte gli dice ah si vieni dai spezzamele e i due cominciano a menarsi proprio così due molto maturi si menano e questo fa scatenare una rissa perché se due supereroi si menano di due squadre le squadre cominciano a menarsi quindi ciclope spara i raggi Tempesta comincia a sparare i fulmini Cannonball il cui potere è quello di farsi esplodere diciamo le gambe diventare letteralmente una specie di pallina rimbalzante insomma i due anzi tutti i due gruppi cominciano a picchiarsi Cannonball si lancia su Batman Batman tra l'altro gli dà un pugno al volo quindi lo fa in qualche modo rimbalzare come vedete dall'altra parte della stanza lui colpisce Tempesta Cannonball quindi colpisce la sua amica con Jean Grey che dice bravo Cannonball stai facendo fuoco amico insomma parte il rissone rissone tra X-Men e Batman poveraccio e ovviamente Axel che in qualche modo da solo cerca di di fermare questo guazzabuglio tra eroi Batman ovviamente anche se è bravo contro tutte queste persone viene presto soggiogato quindi cade a terra e Alfiere gli punta una pistola in faccia gli dice Batman stai per finire male ma chi viene in suo soccorso ecco tanto vedete Alfiere che gli punta le pistole sulla sulla faccia da pipistrello luce entra nella stanza e qua qui davvero finisce la terza parte arriva la Justice League perché Axel nel frattempo se n'è andato dal mondo Marvel quindi è ritornato nel mondo DC con il suo portale ha chiamato la Justice League dicendo Batman è in pericolo e come prima mossa gli è venuta quella di riportarli tutti qua quindi insomma ora ci sono due team da una parte gli X-Men e dall'altra parte scusate da una parte gli X-Men e dall'altra parte la Justice League quarta parte il Salvatore comincia così con Axel in mezzo lui sempre in mezzo quello è proprio il suo ruolo il Dotto Strange dietro con una faccia un po' da pesce che dice non è che stia capendo proprio quello che succede e da una parte Superman la Justice League che dice ho detto fermi e dall'altra parte gli X-Men con Alfiere che in effetti sta puntando la pistola un povero Batman per terra mezzo esanime quindi insomma momento botte fare due supergruppi avverrà non avverrà ovviamente avviene Axel può fare poco per fermare i supereroi da almenarsi e infatti ecco qua parte la rissa parte la rissa tra l'altro mentre il Dotto Strange comincia a avere mal di testa scomincia a capire che qualcosa non va se vi ricordate aveva già avuto un presagio alla fine della primissima parte anche se poi ha negato il fatto di avere Strange dentro di sé comincia però a avere questo mal di testa appena vede tutti questi eroi confrontarsi ovviamente loro non interessa del mal di testa di Strange non interessa che Axel Axes insomma li dica loro di non scontrarsi e infatti altra doppia splash page con botte da orbi vediamo vediamo c'è in alto a sinistra vediamo Tempesta Aurora che sta affrontando Wonder Woman quindi in uno scontro tra l'altro molto simile a quello che c'era già stato nel primo scontro tra Marvel e DC poi vediamo Superman che viene colpito tra l'altro dai raggi di ciclope vediamo Aquaman che sta affrontando Cannonball vediamo Martian Man Hunter tutto verde là in basso che si mena con alfiere vediamo Lanterna Verde che affronta l'uomo ghiaccio insomma Flash che nel frattempo corre Batman cerca di stargli dietro Jean Grey che sta usando i suoi poteri telecinetici per mandare tutto a per lanciare oggetti addosso alle persone insomma grande scontro tra X-Men e Justice League scontro che devo dire prosegue anche per qualche pagina mentre il povero Strange eccolo qua mal di testa e Axel che cerca di risvegliarlo per dire dottore dottore cosa sta succedendo mi dia una risposta tanto il dottore sviene e Axel pensa quasi addirittura che sia morto quindi dice perfetto ho portato qua altri eroi che ora si stanno menando con gli altri questo mi muore tra le mani bravo Axel bravo ottimo supereroe se davvero tenendo divisi bene i mondi mentre Dottor Strange in qualche modo sviene gli incontri proseguono quindi insomma vediamo che Flash tenta di portare via Jubilee Jubilee usa le sue mosse pirotecniche anche qua per stordirlo Cannonball arriva al volo e prende Aquaman dicendo c'è poco spazio qui usciamo tanto sfondando di nuovo quello che rimaneva del lucernario del Dottor Strange tra l'altro spaventando anche la ragazza di Axel che sta nel momento quel momento andando nel ristorante dei suoi genitori davanti al Sanctorum di Dottor Strange come vi ho ricordato e si vede arrivare questi due che sfondano tutto il palazzo e praticamente gli crollano addosso in qualche modo lui vede capisce che c'è 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 un pericolo infatti urla Ming Ming è il nome della sua ragazza lei è di origine cinese devo andare a salvarla devo andare a salvarla quindi lascia che i sperroi si menino e se ne va con un teletrasporto salva Ming da Cannonball e e Aquaman che appunto nel frattempo erano usciti fuori dal palazzo e la porta in un vicolo per salvarla ma proprio i vicoli qui lui le dice chi è in realtà lui non vorrebbe vorrebbe abbandonarla lì nel vicolo e dirgli guarda non ho tempo ne parliamo un'altra volta a me le dice no non puoi dire che non è mai tempo non mi interessa se sta finendo il mondo dimmi chi sei lui glielo accenna gli spiega che è un super eroe gli spiega che ci sono due universi che vanno tenuti separati accontentati di questo tu però non puoi venire devi stare lì io non posso venire con te devo andare di là rischiare la vita insomma gli racconta un po' mezzo e mezzo lei questa cosa non è che la capisce proprio e infatti se ne va un po' incazzata e lui dice forse l'ultima volta che la vedrò forse l'ho persa per sempre perché non può stare dietro queste pazzie però il mio scopo è tenere divisi gli universi io non posso esimermi dal farlo infatti torna subito nel portale e va a fermare Justice League X-Men che nel frattempo se le stanno ancora dando se le stanno ancora dando vediamo vediamo infatti c'è anche questa bella pagina dove Cannonball continua a sparare gente di qua e di là vediamo appunto che i fulmini sembrano di tempesta non tenere a bada Wonder Woman Ciclope decisamente anche se ha un raggio ottico non è abbastanza bravo a combattere per tenere testa Batman Superman con la sua vista calorifica sembra fermare Jean Grey che tenta credo di entrargli nella testa per bloccarlo in qualche modo l'uomo ghiaccio si mena con l'anterna verde che tra l'altro gli dice e tu come ti chiami uomo ghiacciolo uomo ghiaccio quindi becca anche il suo nome quindi per culamento e ancora alfiere Martian Man Hunter che pugni nel muso e via questo è il loro metodo di scontro molto più diretto rispetto a altre tipologie che abbiamo visto in passato negli scontri Axel arriva dice non so nemmeno cosa fare tra l'altro gli chiede scusa pure Jubilee gli mette una mano sulla spalla lui si spaventa perché dice non so cosa fare e Jubilee gli dice guarda in effetti ho fatto una cazzata portando qua gli altri supereroi perché in effetti non li ho avvisati di quello che stava succedendo loro non credono in in Batman e quindi perdonami se ho creato questa confusione confusione che prosegue altre pagine di scazzottamenti è una di quelle storie che è piena di azione che quando le leggete insomma sfogliate le pagine mentre la gente si mena infatti come vedete assistiamo al fatto che l'anterna verde colpisce Alfiere Alfiere l'anterna verde non lo sa può assorbire l'energia e rispingerla indietro quindi prende tutta l'energia che gli ha gli ha sparato addosso l'anterna verde e la ributta indietro alla grandissima quindi lo stesso lanterna verde viene colpito con la sua stessa arma da Alfiere le due proseguono tra l'altro a combattere Tempesta e Wonder Woman tra l'altro dentro il rifugio del Dottor Strange che ha questa stanza come vedete che è al contrario che ruota infatti dice questo posto è pieno di sorprese ma le due sono le prime a seppellire l'ascia di guerra perché mentre sta per cadere ecco qua mentre sta per cadere Tempesta viene salvata con il lazzo da Wonder Woman e dice perché mi hai salvato e lei fa perché ho capito che in realtà stiamo combattendo per niente non abbiamo ascoltato davvero tutto quello che ci dovevano dire Axel e Batman quindi è inutile che continuiamo a scontrarci tra di noi pare che ci sia un problema più grosso quindi smettiamola non sono le uniche a fermarsi anche gli altri in qualche modo si fermano più o meno nel senso che per adesso abbiamo Cyclope che dice ok fermiamoci ma Marsha Man Hunter lo ferma da dietro Superman smette di attaccare Jean Grey però gli dice calmati anche se lei vuole andare a salvare il suo povero Scott qui insomma cominciano un mezzo dialogo le due squadre per smetterla di menarsi quando tutte compreso Axel tra l'altro tutte le persone nella stanza si bloccano perché vedono che da Dottor Strange comincia a uscire una luce comincia a uscire una luce e c'era effettivamente e qua lo vediamo in questa rivelazione con Strange che si solleva da terra e comincia a raddrizzarsi il mantello gli si allunga gli si crea un casco d'oro sulla faccia e infatti Axel dice è lui è il Dottor Strange Fate il Dottor Strange Fate è tornato come è possibile perché l'universo Amalgam non esiste infatti l'universo Amalgam non esiste più ma la coscienza di Strange Fate è rimasta per tutto questo tempo dentro Dottor Strange in una specie di piano astrale in una specie di subconscio di Strange che non sta nella testa ma proprio nell'anima diciamo ed è questo il motivo per cui anche sondandolo Jean Grey non era riuscito a trovare niente riguardo a Strange Fate perché era dentro lo suo subconscio era dentro lo suo subconscio e stava tramando di ritornare stava tramando di ritornare e spiega che quello che lui vuole fare è ristabilire dell'universo Amalgam infatti comincia a sparare i suoi raggi magici addosso ai vari personaggi e dice ora formerò il mio primo esercito di eroi amalgamati per cominciare a riportare piano piano l'universo Amalgam nella sua posizione dominante che è quella che merita secondo Strange Fate primo personaggio unito Alfiere eh Alfiere eh eh Tempesta Ororo e Diana ovvero Wonder Woman ed ecco Amazzone che già avevamo visto nella prima puntata dedicata all'Amalgam tra l'altro qua presentata con il suo nome originale Amazon l'Amazzone anche se Amazon sembra di più il negozio virtuale che salutiamo che eh il padrone della maggior parte di Twitch anche quindi signor Amazon vera identità Jeff Bezos esatto ehm Amazzone Amazzone viene creata mi dice tu sei solo la prima tocca Alfiere e eh Superman che vedete lì sullo sfondo e li unisce anch'essi in un personaggio senza nome poi andremo a cercarlo nelle prossime puntate magari perché nella prossima puntata ritratteremo l'Amalgam nella sua seconda incarnazione che è quella che stiamo vedendo quindi si forma questa specie di super Alfiere una roba del genere ehm comunque un misto fra i due ehm e piano piano l'Amalgam prosegue 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 nel salottino del Dottor Strange nel suo Sancta Sanctorum i personaggi tornano a essersi fusi quindi in qualche modo l'Amalgam sta tornando Marvel e DC stanno tornando a essere due universi uniti cosa che Axel era la cosa che più di tutti voleva ehm evitare succedesse i due stanno tra l'altro ehm insomma Superman e Amazio stanno per avvicinarsi a ehm Axel ma lui pensa intensamente al Dottor Strange attiva un portale e scompare quindi non riescono a fermarlo dove riappare ma ovviamente nel subconscio di Strange doppia splash page totale con molto la Steve Ditko eh disegnatore insomma delle prime serie di di Spider-Man ma anche di 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 Dottor Strange quindi molto psichedelico fino agli anni 60 il subconscio di Dottor Strange un subconscio parecchio strano direi tra occhi demoni piramidi eh erbacce volanti insomma vabbè non ha proprio diciamo un subconscio eh tranquillissimo Axel Axel è lì si chiede cerca di capire dov'è viene attaccato da un senza mente che è quella specie di robottone che vedete no nero con quella fascia al posto degli occhi che spara un raggio e Axel scopre che il suo nome è senza mente quindi il nome dice radici già lunga non può praticamente non ha facoltà mentali e a spiegarglielo è attenzione lo stesso Dottor Strange quello vero intrappolato nel suo stesso subconscio come vedete è in forma trasparente perché è la forma astrale Dottor Strange lui può astrarsi effettivamente dal proprio corpo diventare una specie di fantasma e viaggiare nelle dimensioni la sua forma astrale è intrappolata questi rovi questi tralicci che lo lo tengono fermo e averlo messo lì è il Dottor Strange che tra l'altro lo sta costringendo a viaggiare in forma astrale da una dimensione all'altra così come in un labirinto per tenerlo a bada Access dice meno male che sono stato teletrasportato qua io pensavo di potermi viaggiare solo tra universi viaggiare solo tra universi paralleli invece in realtà anche le sottodimensioni come questa che appunto è la dimensione del subconscio di Strange se sono abbastanza concentrato sull'obiettivo ci posso andare quindi Access sempre più potenti e aver pensato intensamente a Strange o l'ha portato qua Strange non è molto contento della situazione perché dice non 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 ce la faremo a battere Strange è finita ma Axel dice aspetta io sono riuscito a finire in questo tuo subconscio questo sottouniverso chi mi impedisce di portare te anche se in versione astrale nel mondo reale quindi nel mondo Marvel in questo caso magari tu in forma astrale puoi riprenderti il tuo corpo e scacciare via Strange non è che ci creda molto ma o la va o la spacca e ragazzi la va perché l'intuizione di Access è giusta tocca al Dottor Strange e i due scompaiono tra l'altro in mezzo ai rovi scompaiono e riappaiono nello studio dell'amato Dottore che ora si è trasformato tra l'altro nella torre di Strange torre che abbiamo visto anche nell'episodio dedicato all'amalgam Dottor Strange è un po' incazzato perché dice dove sono spariti quei due trovatili quando si ritrova davanti quindi abbiamo Access dietro e il Dottor Strange in forma astrale che arriva sparato verso il Dottore per riprendersi il suo corpo parte un po' di sfida tra i due diciamo quindi c'è i supereroi amalgamati cercano di fermare Strange ma essendo in forma astrale non possono colpirlo qualcosina sembra riuscire a fare Strange Fate usando il suo bastone magico quindi mago contro mago ma appena nell'occasione il Dottor Strange come vedete pam rientra nel corpo di Strange Fate quindi in qualche modo si riappropria del suo corpo Dottor Strange Fate urla di dolore gli dice ti prego ti prego no non farlo così l'universo amalgam svanirà di nuovo quindi noi smetteremo di esistere lui ci tiene insomma che comunque gli eroi di quell'universo in qualche modo vivano e in effetti sono nuove identità di fatto è un universo a sé stante l'amalgam quindi farlo scomparire quasi equivale a distruggerlo in effetti Strange Fate non ha proprio tutti i torti a velovo preservare poveracci poveracci gli eroi amalgamati luce verdastra luce verdastra e dopo un bagliore iniziale Strange torna a essere Strange quindi rinviene nel suo corpo e l'universo amalgam si ritrova rinchiuso letteralmente in un frammento di universi in una specie di bolla che lo contiene ovviamente qua viene rappresentato come gli eroi dell'amalgam gli eroi uniti amalgamati tutti in fila ma non è che sono dentro come le statuine è un modo per rappresentarlo semplicemente l'universo amalgam ora esiste e continuerà a esistere in questa sferetta che Strange chiede ad Access di custodire perché lui non può fare non può contenere un universo in casa Strange insomma non è molto molto come si dice sicuro tenere un universo così dentro dentro casa dentro un cassetto Access dice ma in realtà tu mi sembri più esperto di me perché dovrei io tenere questo universo amalgam rinato in miniatura e lui dice perché si perché tu sei la persona giusta infatti appena lo tocca l'universo amalgam scompare e Strange dice è finito dentro di te ora tu sei il custode dell'amalgam quindi l'universo amalgam non è scomparso ma è dentro di te e lì resterà che è anche il posto più sicuro questo secondo secondo Strange Batman si scusa un attimo perché dice abbiamo insistito un po' troppo tra l'altro poi gli X-Men ci hanno attaccati anche per quello ti hanno visto in pericolo ti chiedo scusa però avevamo ragione quindi comunque Batman un pochino vuole mettere il pedale schiacciare il pedale della ragione alla fine non stavamo dicendo delle stronzate perché in effetti Strange Fate era davvero dentro di lui Dottor Strange infatti si scusa dice si io mi scuso per l'averlo negato aver detto che era impossibile in realtà essendo il mio subconscio era stato bravo a fregare me quindi insomma da stregone anche lui è riuscito a fregare uno stregone come me facendomi credere che io stessi bene momento del commiato momento del commiato Batman e Superman devono tornare al mondo DC anche tutta la Justice League Superman fa pace come capo della Justice League con Ciclope capo degli X-Men insomma lo scontro è stato proprio tra di loro più che un Mario verso di Sia proprio un X-Man contro Justice League direi Strange saluta tutti dice che spera che i due universi non debbano più tornare a confrontarsi perché per quanto ci siano degli eroi che in qualche modo possono volersi bene abbiamo visto Jubilee e Robin appunto che si amavano è un pericolo per l'universo il fatto che anzi per gli universi il fatto che questi possano incontrarsi ogni tanto quindi ci speriamo non succeda più Axel decide di riportare tutta la Justice League nel suo universo e quindi saluta il Dottor Strange e puff spariscono e tornano nel mondo DC epilogo epilogo Marvel da una parte DC dall'altra e Amalgam sopravvissuto dentro Axel quindi insomma i tre universi ora sono letteralmente tre e appunto anche i poveri protagonisti dell'Amalgam queste nuove identità non si troveranno a scomparire così nel nulla e la ragazza Ming ha deciso di perdonare ancora una volta Axel quindi li vediamo mentre stanno giocando con la neve perché nel frattempo è arrivato l'inverno è arrivato il Natale lei dice non mi hai raccontato comunque ancora tutto ci sono tante cose che ancora non so di te chissà se le scoprirò sì o no lui dice ovviamente che vuole tenere un po' di mistero e dice comunque non ci sarà tempo forse per spiegarti di più chi sono che cosa faccio e mentre se ne vanno tra l'altro vediamo che in un tombino che loro diciamo oltrepassano insomma su cui camminano oltre a un po' di neve un po' di acqua vediamo un brandello luminoso in quell'acqua scura che gorgoglia come se un piccolo frammento di universo in qualche modo ci sia ancora fosse rimasto nell'universo Marvel e infatti Axis in realtà mentre la storia si chiude dice ok sono contento che sia finita però devo dire che in qualche modo mi sono divertito a fare questa avventura e anzi con i miei poteri voglio vedere cosa accadrà cioè sono un po' curioso sono contento che i due universi si siano separati che l'amalgamo ora sia sopravvissuta ma anche se so che questa cosa è pericolosa per l'universo devo dire ho un po' di hype per il futuro perché sono affascinato anche da queste cose sono curioso di vedere cosa mi riserverà la vita comune ma anche quella da supereroe quindi insomma questa volta la storia si chiude con un access un po' sognatore e ha ragione ha ragione perché ve lo dico subito ci sarà anche Marvel contro DC3 quindi il terzo incontro tra universi anche lui preceduto da un paio di crossover e soprattutto da una puntata speciale sull'amalgam che faremo settimana prossima perché l'amalgamo ora è tornata l'amalgamo ora è un universo che esisterà per sempre e quindi la Marvel e la DC all'epoca decisero di proporre nuove storie ambientate in quell'universo con anche nuovi personaggi amalgamati arriveranno delle cose che vabbè non sto nemmeno lì a dirvi ve ne dico una su tutte Lobo il papero cioè Howard il papero il paperotto che abbiamo visto in precedenza in un vicolo quindi per chi non lo conosce immaginate Paperino della Disney praticamente che però fuma il sigaro unito a Lobo il caccettore di taglie bianco in volto con i capelloni che aveva affrontato Wolverine nel vecchio scontro Marvel vs DC fusi assieme e diventano Lobo il papero quindi metà papero metà gigante bianco incazzato cioè potete immaginare che follia siano le sue storie questo è solo uno dei nuovi personaggi amalgam che vedremo settimana prossima perché sì l'amalgam è tornata e vive dentro Axes come abbiamo visto però però così si conclude in pace anche il secondo incontro fra universi vi ringrazio per essere stati con me questa sera per aver ascoltato i vaneggiamenti di uomo che sapeva troppo su Marvel vs DC ci vediamo per il prossimo appuntamento mercoledì prossimo con la seconda puntata dedicata all'amalgam con nuove storie ambientate in questo universo in cui Marvel vs DC non esistono ma sono unite assieme grazie per essere stati con me vi ricordo di iscrivervi al canale se state vedendo questo video indifferita di mettere like di condividerlo di commentarlo se volete trovarmi il modo migliore ve lo dico sempre è entrare nel canale telegram cercate su telegram uomo twitch che è questo canale dove io avviso quando vado live quando quando diciamo una diretta sta per partire quindi se volete sapere tutto su di me senza ricevere continui spam quello è il posto migliore se no potete anche cercarmi sui social ve li ho già messi prima ma li rimetto quindi cercatemi su instagram su facebook o twitter cercate sempre uomo che sapeva troppo uomo espo uomo espo uomo ma i contatti li trovate tutti qua e se volete sostenere quello che faccio potete con una sub iscrivervi al canale sottoscrivere un abbonamento che è gratuito se avete amazon prime potete collegare il vostro amazon prime con il mio canale mi aiutate a fare quello che faccio a farlo meglio a farlo più spesso grazie ancora buonanotte e ci vediamo al prossimo scontro tra marvel e dc che come già detto non sarà uno scontro ma sarà un amalgama con la seconda parte di amalgama buonanotte fate i bravi e alla prossima